Quando abbiamo saputo che portavano i buoi al raduno a Cavriago, li portavano in Germania, noi abbiamo dato l'assalto una notte con i SAP, tutti i partigiani della resistenza, ci siamo organizzati tramite due apparatori, quelli che li portavano al raduno, e siamo andati fino in montagna a portarli, 110 buoi, è stata una cosa grande, grande perché è stato un sacrificio enorme, la strada del Rubianino, allora c'erano due scepi alte, 3 metri, quelli di bianco spino, tutto scuro, si andava così come era possibile. E il problema era cominciare a avviare questi buoi, perché è una cosa molto, l'abbiamo curata nel senso che questi apparatori qua che portavano i buoi, ci hanno insegnato, ne leghiamo quattro per le corna con la fune, quelli che avevano la coppa grossa che avevano lavorato quelli, che avevano portato in gioco, e dice li mettiamo davanti, poi lasciamo andare tutti gli altri e partiamo, e siamo arrivati a Ceredolo dei Coppi. I sentieri cosiddetti partigiani erano conosciuti più delle strade. E siamo arrivati a Ceredolo dei Coppi con tutti i buoi, che poi lì era il problema, portare un mucchio di bestie così era un problema. C'era anche mio fratello delle tendenze di finanza, la chiamavano in tendenza dove distribuivano i mangiare, i vestiti, e lì abbiamo discusso un pochino dei buoi come dove metterli e gli abbiamo dislocati due o tre buoi ogni casa di contadini, che i contadini gli sono serviti molto a rarare il terreno perché il petrolio era requisito dai tedeschi, la benzina, non c'erano, non era possibile a rarare il terreno che i trattori e usavano questi buoi, però ogni tanto qualcuno c'era da mangiare perché in montagna macellavano un buo e poi dopo viene distribuito dal personale addetto a dislocare.